Un incidente che ha coinvolto ben tre navi, quello avvenuto questa mattina alle prime luci dell'alba nel porto di Pozzuoli. Secondo quanto si apprende, una motonave appartenente alla compagnia Gestur avrebbe colpito, mentre si preparava la prima navigazione verso Ischia, l'imbarcazione della compagnia Medtour Tourist Ferry Boat 2 e coinvolgendo poi una terza nave, la Georgia. Quest'ultima poi ha urtato violentemente la banchina con numerose conseguenze allo scafo. Danni sia a poppa che a prua, nessuna vittima e nessun ferito, è un danno stimabile in un milione e mezzo di euro, secondo quanto riportato dalla compagnia. Anche la Tourist, la prima nave colpita, ha riportato danni che probabilmente avranno conseguenze sugli approvvigionamenti all'isola di Ischia, in quanto l'imbarcazione è addetta al trasporto di carburanti e gas per il riscaldamento.